Ciccia con i demoni Sì, bello Non sono belli come la fai di prima Ma è bello comunque partire con quello Io mi vesto da Titus Facciamo tutta la comp Prismela? No perché livelleremo, turno dopo Alla fine la mela è un più 1, più 2 e basta Cosa ti piace Nicola questo comando? Sambarino centro del mondo Sempre, grazie Lexara Si poteva frizzare in caso tipo di secondo demon Quello è vero Si poteva frizzare just in case Ho aggiunto il migliore, nice Questa volta non è stato un miss Ci può essere il doppio monile delle bombette? No perché è un monile piccolo Però puoi trovare Ovviamente per fare la Baghdad perfetta Bisogna trovare il pesce Cioè pesce dorato e monile della Baghdad Invece il pesce l'abbiamo rubato con la spell E poi ci... È stato incredibile come primo posto Ovviamente sculato L'ultimo fight Però abbiamo fatto una bella... Cioè il secondo ce lo meritavamo tutti Tutto In realtà ci meritavamo anche il primo Però comunque l'abbiamo giocato per un secondo Qual è la principale differenza tra lo san marinese e un italiano? Cosa dici Lussa? Che mi segui da un po' Secondo te qual è la differenza principale? Prima mangiata buona dell'anno I soldi Ma voi pensate che a San Marino siamo tutti ricchi? Forse vent'anni fa Quando gli insegnanti delle superiore Prendevano fatto il capo E i tempi Festeggio l'anno con la partita più bella Dai tempi di Khadgar più gattino Non l'ho vissuto io però Oh, l'attenzione perché lui ha Oh, il pesce Ah, qua si fa questo e questo Oddio Allora ragazzi È buono il secondo te Io faccio questo vendo Si prova a triplare questo per me Posta 50% ce lo giochiamo? Eh sì, è fortissimo Eh cazzo, non lo so Farei questo Questo è anche broken Vabbè, giochiamo tutto Mancio Sì sì, prendiamo 4k Poi ora ne prendono 2.8 tipo 10 anni dopo Beh, comunque è tanto Per tutto questo perché lui aveva Aveva bestie Cioè aveva demoni Vabbè, faccio questo qui O Minos Nel 3-2 No, se l'ha mangiato lui Si fa inizzo al secondo Mino? Non credo Non era da fare a capi su questo Era da fare sempre su uno uno Cioè effettivamente il rischio Che solo mangiasse lui Era brutto Era da fare su questo Dopo quella Dopo quella Magdalvo ti va anche da live Giocare al giochino dei cocomeri Adesso presentiamo il prossimo scam Al prossimo scam Vieni all'asta Tra due giorni Cioè che poi in realtà È domani ormai O la fai La fai in remoto Ovvio Ottimo, ottimo Io il costume Lo porto Abbiamo un amico Che alla casa Una volta era di Anna Falchi Con la vaschetta E del massaggio Ogni asta Io provo a portare il costume No, lei non c'è Purtroppo No, lei non c'è È rimasta solo la vaschetta Della massaggio Lei non era compresa Io e pochi samarisi Che conosco Che giocano a calcio A meno qualche presenza Di nazionali under Qualcosa l'ha fatta No, io raga Non ero Non ero comunque A un sufficiente livello Per giocare nell'under Di San Marino Mi dispiace Ho preso gold Anche una volta Dal portiere Della squadra avversaria Che invece ora È il portiere Della nazionale di San Marino La mia discolpa Ho preso gold Dal portiere Della nazionale di San Marino Quando ero ragazzino Questo ovviamente Livelliamo E poi lo rimangiamo Questo qui No, che cazzo dico Non sto giocando più Zannuncino Sto giocando Ciccia Allora faccio HP qua E poi se facevo HP qua Si prendeva uno di vita lui Più o meno Erano più o meno Le stesse stats Forse dovevi riprovare Dopo aver messo gli occhiali Ma come facciamo La mettete in porta Infatti È uno dei miei più grandi È uno dei più grandi misteri Anch'io me lo chiedo Come abbiano fatto A non spostarmi Cioè magari In un altro ruolo Non ero così atroce Però no Giocavo in porta Mettere 20 Gioca tripla È sempre questa Potrei prendere viceguardia A fare quello Un sacco di stats sono Ho sbaglio Sono Eh sono un forte Questo in realtà è forte Fare anche HP su di lui Forse è comunque meglio Per cui faccio questo qui Cioè questo No è questo è le splitta È meglio farlo su di lui Non so se fare questo Cioè HP su questo Per avere più Di un taunt Per ora così Ci sono molte belle ragazze San Marino Stai andando bene Oddio Eh raga Ma è come una piccola Cittadina italiana Alla fine Ci sono molte belle ragazze In una piccola cittadina italiana Ci sono poche persone E basta Poi siamo noi Tutti vecchi I tuoi servitori Hanno davvero dato tutto Un altro ora Me lo sparerei Intanto questo è Non morti robot Quello ci sta E facciamo Questo qui No Facciamo quello lì E poi faccio HP su questo Si buffa pure se stesso Allora per fare La no tribe Serve il murlo Che purtroppo non c'è Quindi non si farà mai La no tribe Esiste off A San Marino What Se la turn Se a San Marino Sono tutti vecchi Toccateri popolare Con le vecchie Se esce il moniere Del no tribe Lo prendi Ai o mino Cap Niente murlo Come un HP Un sogno È vero ragazzi Ma Boh C'è solo su questo Con bran Riusciamo Con bran E questo triplato Oddio Si potrebbe anche fare Vi da errore Quando vi Raga ma C'è qualcuno Che sia riuscito A iscrivere Stasera Ready check Al torneo Di Al torneo Di Stalkend Non sei Non sei il primo Che dice Che gli da errore Lo mettete Vero l'hashtag Con i vostri numerini Vabbè dai Cioè O gioco tempo Anche sto turno Faccio questo Più HP qua O caccio un roller Un roller Bello lui Pure con Pure con Taunt Per il turno dopo Vai Ora basta Tra l'armonia Demon ed è fatta Io si Dato errore Poi con refresh L'ho iscritto normalmente A me dava errore Appunto proprio Perché non mettevo I numeri Ah ti dà Errore Iscrizione al sito Che errore ti dà Mandami pure Lo screen Su Telegram Metti lo screen Nella cricca Taggami Che poi ci guardo Lo giro Ai ragazzi Del sito Il monile Dove fare il sub Sono solo che con te Vipa Grazie del settimo Bentornato Vediamo il secondo Mino rosa Prendo danni Prendo danni Baffa Però Non lo so Non credo Non credo Questo non è male Dove ho togliere il seggio 14 Urduo Spell Broken C'è la spell La uso per guardare il percursionista Ci sta Ci sta Mi costa Mi costa troppo Forse Forse sì Lasciamola stare Settivamente tanto vale trovare la tripa di questo Ma la prossima che salta è il demonio schizzinoso Anche il fellegrin può saltare Buono Il pareggio Grazie Grazie Ottoroga del quarto Devo stare questa carta Con 9-8 si prende? Qua locanda baffata Secondo me no Nooo Ho veramente mangiato quello Che sfiga Cazzo Qua locanda baffata No, 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 no. il cobrano a sto punto la sperla piglio che l'altro me lo sono mangiato si la strega c'è posso anche aspettare più aspetto e più questo è grosso yolo vai oddio l'omino ogni demone che gioco ragazzi mi fa potenziare la locanda è meglio del roller in teoria no? cioè è meglio del roller non gold visto che comunque ho questo che genera serve brand stai forte è meglio assoltare una recluta finché puoi farlo ha dovuto sentire le percussioni nice discover a 4 eh questa è roba forte ok ok ma quanto stai lento spera caso in realtà non era male c'era un pezzo carino vediamo così è stato fortissimo questo perché li ho bloccato perché ha attivato la rana anche laggiù cioè l'ho distrutto con sta con sta 10-1 era un problema sto tizio ecco sono riuscito tra l'altra volta la rana di tira se no sta facendo no ok yes post pensavo che potevamo perdere prenderà anche 20 danni invece con il titolo degli scudi messo anche un po' randomicamente non si perde i tuoi servitori hanno davvero dato tutto ora si che si ragiona un servitore in meno una moneta d'oro in più e continuo a rollare brano inesistente ragazzi è così che funziona sto gioco se ancora non l'avete capito capiatelo no no come di cazzo di danni mi ha fatto sta cosa vabbè questo va detauntato sto signore un servitore in meno una moneta d'oro in più mi sa come si assolda pure Una di queste reclute Ragazze Vedete la Serve 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 Posto Non ho messo la strega Non l'ho messa neanche io Allora l'oppo che dobbiamo affrontare dopo gioca Elemental Lui ce l'avrà la strega Bisogna togliere il taunt dall'Urdul Tenirlo in fondo senza taunt E primo anche Anzi non fondo Primo E per me da primo era soffri l'Iroi se non mai stara Neanche stara Togliere taunt è stara Comunque tutto tauntato È morto dal morto Dalla rana di build giustamente Che non si aspettava Perché era forte l'oppo di prima Easy primo posto Turno 12 Easy peasy Siamo rifatti Questo doveva essere un primo posto anche la partita precedente Se non mi fossi ammazzato da solo La sana è pesata se ti fai danno da solo? In teoria no E questa era una sana più ultra piccante È vero Questa era una sana più ultra piccante Abbiamo vinto tutti i fight Deine strafine E' vero E' vero